Sono Zeba Yahweh, vengo dal Burkina Faso. Nel nostro paese il crocodilo si mangia. Prima di ammazzarlo si taglia il corpo e dentro lo stomaco piccolo si trovano le pietre. Le pietre mostrano la sua età. Si trovi una pietra a un anno, si trovi tre pietre a tre anni, e così via. Il corpo e la sua testa si vendono. Anche il pitone si mangia e per uscirlo non è facile. La carne del pitone si mette tutta dentro una pentola. Si incende il fuoco e tutti devono allontanarsi. Se il vapore entra nel corpo di una persona diventa una maladia grave. Si trovi un pitone e metti il suo corpo nell'acqua e con questa acqua ti lavi in una settimana o qualche giorno passa la maladia. Nel nostro paese si mangiano pure i gatti. Se il vapore salvatisce ma questi i ragazzi non lo possono mangiare perché se metti lo mangi tu tossi poi la tosse continua sempre fino a che mori. I ragazzi non riescono a mangiare la carne o bere il suo senza tossire, quindi non lo possono mangiare. I ragazzi non riescono a mangiare la carne o bere il suo corpo nell'acqua e con questa acqua. Grazie a tutti.